Siamo con Martina Grimaldi, campionessa di nuoto in acque libere delle Fiamme Oro. Martina, tu sei la regina del nuoto in acque libere. Come ci si sente essere la più forte ed essere quella che le altre guardano prima della gara? Io cerco sempre di non stare attenta a queste cose e cercare che le altre mi guardano, ma io non penso a loro perché se no comunque mi metto più tensione del dovuto. Comunque sì, diciamo che sto diventando magari in alcune gare un po' un punto di riferimento, però comunque cerco sempre di fare il meglio che posso in tutte le gare che vado ad affrontare. Per il resto questa è stata una stagione molto lunga perché io ho incominciato il primo ottobre dell'anno scorso a nuotare e ho finito il 5 di ottobre del 2013, quindi più di un anno che nuotavo. È stata una stagione però molto ricca di successi. Ho fatto sia gare di Coppa del Mondo sulla 10 km, sia gare di Grand Prix, che sono gare più lunghe dei 10 km e che non avevo mai affrontato. Poi ho fatto soprattutto la Capri Napoli, che è la marasona più vecchia, più antica del mondo e ho fatto anche il record, quindi io spero che duri per un bel po'. Per il resto sono soddisfatta di questa stagione. La prossima sarà, penso, impegnativa come questa. Avremo solo gli europei come gara clou dell'anno, però ci si prepara in vista di Kazan 2015, che ci si gioca il pass per le Olimpiadi. Bene, allora complimenti ancora per la stagione passata e in bocca al lupo per la prossima. Crepi, grazie a voi. Grazie. 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 Grazie.